È stato un weekend più movimentato del solito per le forze dell'ordine isolane nella notte tra domenica e lunedì gli agenti del commissariato di Ischia durante il servizio di controllo del territorio su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Citronia a Forio per la segnalazione di una donna minacciata dall'ex compagno. I poliziotti giunti sul posto sono stati avvicinati da una donna la quale indicando un uomo come il suo ex compagno ha raccontato di averlo visto dirigersi nella sua direzione con passo svelto mentre stava raggiungendo la sua autovettura. La stessa avendo subito delle aggressioni dall'uomo in altre occasioni si era rifugiata nella sua macchina ma l'ex compagno dopo aver rotto il finestrino dell'auto era riuscito a raggiungerla nell'abitacolo e l'aveva minacciata. Gli operatori hanno bloccato l'uomo e dopo averlo identificato per un 27enne tunisino con precedenti di polizia lo hanno denunciato per atti persecutori minacce aggravate e danneggiamento. Infine gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione ed hanno rinvenuto un portatessere con distintivo metallico riproducente i segni distintivi delle forze dell'ordine. Per tale motivo è stato altresì denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti. Ancora i poliziotti hanno accertato che l'uomo aveva raggiunto il luogo della lite a bordo della sua autovettura risultata essere poi sprovvista di copertura assicurativa, revisione periodica e carta di circolazione. Pertanto gli sono state contestate le violazioni del codice della strada previste. Un episodio invece surreale ha visto coinvolti i carabinieri. Ci troviamo a Forio e i militari della locale stazione decidono di controllare una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Si tratta di un 37enne arrestato lo scorso 23 novembre per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri bussano alla porta dell'uomo ma nessuno risponde. I minuti passano e i carabinieri continuano a bussare fino a quando la porta si apre. Dall'uscio però non si intravede il 37enne che è ancora all'interno insieme ad una donna nonostante l'obbligo di non comunicare con nessuno come da prescrizioni emesse dall'autorità giudiziaria. Bensì si vede un molossoide. Il cane razza corso si avventa contro uno dei carabinieri. Solo il fato, la bravura del militare e anche il carattere mansueto dell'animale nonostante la pericolosa situazione che si è creata evita che qualcuno si faccia male. Il corso detenuto legittimamente in buone condizioni viene messo in sicurezza così da poter perquisire l'abitazione dove viene rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto da 22 centimetri. Per la coppia una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo dovrà rispondere anche di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.